La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Proseguiamo con l'eccellenza dell'anno, innovazione e consulenza, gestione dei sinistri. Il premio va a Esis. Per essere una realtà di successo specializzata nelle consulenze tecniche cinematiche e gestionali dei sinistri, per offrire un servizio all'avanguardia grazie a un team strutturato e innovativi sistemi software che permettono di operare con velocità e affidabilità, per curare e risolvere con attenzione ogni aspetto della gestione dei sinistri. A lei, grazie. Siamo in compagnia del dottor Luciano Dispendi, amministratore delegato di Esis. Benvenuto. Grazie. Dottor Dispendi, Esis si conferma come eccellenza nel settore dell'innovazione e consulenza per la gestione dei sinistri. Le chiedo un commento per questo prestigioso riconoscimento. È il frutto di un lungo cammino impegnativo, è il frutto di un'innovazione che è stata al passo coi tempi su tutto quello che è stato l'aggiornamento, è stato l'aggiornamento della gestione dei sinistri. Abbiamo nella nostra azienda cambiato un po' le cose e abbiamo preso in mano le società di noleggio, abbiamo preso in mano le società di noleggio a lungo termine, a breve termine, abbiamo dato loro dei servizi di gestione, di cura e di ottenimento del giusto risarcimento di tutti i sinistri che accadono alla flotta. Oltre questo siamo andati anche in altri campi, abbiamo iniziato a fare delle perizie tecniche, perizie meccaniche, perizie di riscontro sulla gestione e sull'accadimento dei sinistri. Stiamo andando ancora avanti e stiamo improntando delle ricostruzioni cinematiche in 3D che danno almeno in una prima fase di gestione l'idea di quello che è realmente accaduto. Nel 3D riusciamo addirittura ad inserire all'interno delle macchine delle telecamere, ovviamente virtuali, ricostruendo appieno il sinistro. Quindi tutto questo esiste, è stata un'evoluzione nata nel 2008, un'evoluzione continua e oggi credo di aver ottenuto degli ottimi risultati. Ecco, come diceva, il vostro settore comunque è soggetto a numerosi cambiamenti sia nelle metodologie di risarcimento che anche nelle procedure legislative, quindi le chiedo in che modo riuscite a stare al passo con questi cambiamenti? Stare al passo con questi cambiamenti significa essere continuamente aggiornati con la legislatura che cambia in modo repentino, quindi tutto ciò che sono le normative, le leggi che vengono impostate e poi promulgate dal governo, quindi bisogna stare al passo con quello, con dei corsi di aggiornamento, soprattutto tenendosi sempre informati, cercando di capire come vanno e come vengono impostate le nuove regole. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico è una necessità impellente di tenersi continuamente informati sui nuovi veicoli. Stiamo andando verso l'elettrico e noi tecnici, soprattutto per la parte che si occupa di perizie, la parte che si occupa di danni, deve essere continuamente aggiornata con le innovazioni ATAS, le innovazioni dei veicoli che hanno questi nuovi sistemi informatici all'interno per la gestione delle centraline e di tutto quello che compone la macchina e quindi ci sono dei corsi, ci sono delle università che fanno corsi, aggiornamenti, spiegazioni, ci sono delle aziende specializzate in questo e noi siamo sempre al passo andando a cercare proprio questi corsi di aggiornamento. Ecco, in un mondo che sta cambiando, quali sono oggi le fonti di vantaggio competitivo nel futuro processo di gestione dei sinistri? Su questo noi stiamo andando un po' in una situazione ibrida, gestiamo i sinistri non più con una sede centrale e quindi non più lavorando tutti dentro lo stesso ufficio ma facendo un metodo ibrido, quindi si lavora in cloud, quindi con la possibilità di lavorare da casa, con la possibilità di lavorare con colleghi, soggetti e personaggi e aziende che sono al di fuori della città, quindi se c'è necessità di andare a verificare uno stato dei luoghi in un'altra città abbiamo i collegamenti diretti e quindi l'espansione sulla gestione, l'espansione sul trattato vero e proprio di quello che è accaduto, quindi dobbiamo accertare lo stato dei luoghi, abbiamo i nostri referenti in ambito nazionale e andiamo a usare le loro aziende per poter dare il massimo risultato sulla gestione del sinistro, quindi è l'espansione, l'espansione insieme alla innovazione, all'innovazione tecnica, oggi nel 2022 ormai siamo super tecnologici e anche lì cerchiamo e manteniamo un passo abbastanza attento ad essere sempre aggiornato, sia in formato web, sia in formato di gestione interna. Nel mio ufficio non c'è più carta, ecco, stiamo andando verso quella strada, quindi diventa tutto tecnologico, non c'è più carta, in qualsiasi posto si può lavorare, in qualsiasi posto si può gestire il proprio compito dell'ufficio. Bene, la ringrazio dottor Dispendi e congratulazioni per aver vinto gli awards. Grazie, grazie a voi.